La Ministra della Giustizia Marta Cartabbia ha acquisito il parere del CSM e ha firmato il decreto sulle piante organiche flessibili distrettuali a supporto degli uffici giudiziari impegnati con gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato fissati con il PNRR. Sono 179 i magistrati destinati alle piante organiche flessibili, uno strumento istituito dalla legge 160 del 27 dicembre 2019 per andare in conto a specifiche esigenze degli uffici giudiziari, eventi imprevedibili, smaltimento dell'arretrato, riduzione delle pendenze e sostituzione di magistrati temporaneamente assenti. Dei 179 magistrati, 125 sono destinati alle funzioni giudicanti, 54 a quelle requirenti ripartite nei diversi distretti di corte d'appello come previsto dal decreto. Ecco come saranno ripartiti distretto per distretto. Ancona 6, Bari 7, Bologna 9, Brescia 6, Cagliari 7, Caltanissetta 5, Campobasso 3, Catania 7, Catanzaro 9, Firenze 10, Genova 5, L'Aquila 6, Lecce 5, Messina 6, Milano 12, Napoli 13, Palermo 6, Perugia 4, Potenza 5, Reggio Calabria 6, Roma 13, Salerno 5, Torino 9, 32, Trieste 3 e Infine Venezia con 10.